buongiorno a tutti allora 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 news 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 sempre news di settembre quindi news tra virgolette perché sono di un paio di mesi fa e non sono news belle ve lo dico subito a parte qualche notizia che è curiosa di cui parleremo anche successivamente la maggior parte sono notizie brutte 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 eh vabbè ragazzi non è che possiamo sempre parlare di cose e la scienza e la fantascienza e eccetera eccetera ci sono anche le cose di cronaca la prima riguarda ahimè l'ennesima tragedia di la montagna una persona un cercatore di funghi che ahimè è precipitato ed è ed è morto purtroppo poi di che cosa parleremo parleremo di una notizia invece bella di una maestra comasca che insegna arti marziale e che contemporaneamente aiuta i disabili e diciamo che il tai chi che insegna funziona funziona abbiamo un po di testimonianze c'è un po di racconti eccetera poi ahimè parleremo di una tragedia all'ennesima solito personaggio che ha ucciso un ragazzo di 23 anni e purtroppo devo dire senza apparente motivo anche se lui si è inventato che l'ha fatto però pare che boh io non riesco a capire perché una persona debba ucciderne un'altra così inventandosi poi dopo delle cose una volta che l'ha lì per me c'era sotto qualcos'altro ma boh comunque c'è un processo in corso sono andato anche a curiosare infine parleremo di lui o non è lui è lui o non è lui certo che è lui il buon george ma ne parleremo anche successivamente perché la notizia è questa forse pare potrebbe il buon george vendere villa oleandra e andare chissà dove lasciare come ci fermiamo qua la notizia è questa c'è questa notizia di settembre attenzione la notizia di settembre poi ce ne sarà un'altra che potrebbe confermare o cambiare ancora la qualcosa e poi ce ne sarà ancora un'altra ne parleremo dei prossimi giorni prima c'è questa puf questo puf chiamiamolo puf non chiamiamo puf ma iniziamo ragazzolino iniziamo con questa notizia triste io continuo a dirlo fate attenzione quando andate in montagna non andate mai da soli cercatore di funghi trovato morto in valcavarnia era precipitato per diversi metri la mattina del 18 settembre è stato ritrovato 2023 quindi due mesi fa circa poco più di due mesi fa è stato ritrovato prima di vita al corpo di giuseppe caneva un pensionato dato per disperso domenica 17 settembre l'uomo ha perso la vita dei boschi della valcavarnia zona san nazzaro dopo essere precipitato per diversi metri in un canale impervio era uscito di casa la mattina prima per andare in cerca di funghi il mancato rientro ha allarmato i familiari che hanno chiesto aiuto le ricerche sono partite nel pomeriggio appunto di sabato subito devo di comunque del 17 settembre ma impegnati una quindicina di tecnici della stazione lario occidentale ceresio della 20 diciannovesima delegazione cds as corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e il sag soccorso alpino guardia di finanza di badesimo sempre in contatto con le due centrali di soreo dei laghi e soreo alpina le operazioni hanno interessato le zone primarie dei dintorni e percorsi più probabili sulla base delle informazioni e degli elementi raccolti la mattina successiva i soccorritori hanno ritrovato l'uomo nel canale dopo la constatazione del decesso da parte del medico il corpo è stato recuperato l'intervento si è concluso in tarda mattinata con il rientro delle squadre il suo consorso alpino ha voluto ringraziare per la collaborazione gli amministratori e la popolazione di sannazzaro o nazaro sannazzaro dovrebbe essere io quando leggo queste cose sempre da soli sempre da soli sempre da soli non andate in giro da soli perché uno pensa ma no vado a fare la passeggiata vado in montagna e tutto tranquillo siccome quando si va a fare funghi di solito ha piovuto il giorno prima perché logicamente il fungo spunta qua dopo una bella pioggia no tu piove il giorno prima giorno dopo subito a cercare il fungo e però c'è il terreno che è sempre malefico perché è bagnato perché c'è la la pucciaccia come la chiamo io no la poltiglietta e cena e quindi è un attimo se si è in due uno può chiamare subito il cosparo è destino e destino però ripeto magari questo signore era anche esperto eccetera eccetera però vale andiamo avanti andiamo con una notizia bella ragasoli ilvira la maestra comarsca di ye ye arti marziali che aiuta i disabili con il tai chi il tai chi come arte marziale ma anche come prezioso aiuto in casi di particolari patologie a proporlo in questa versione per così dire terapeutica è l'associazione tai chi caratelario che ha il suo punto di riferimento dell'istruttore elvira scotti dal 2019 questa associazione sportiva e di promozione sociale molto attiva nel supporto ai disabili grazie corsi a corsi appositamente predisposti per loro grazie alla collaborazione della cooperativa sociolario ragazze ragazzi donne e uomini affetti da disabilità possono frequentare a sagnino sagnino qualcuno se lo segui le lezioni che elvira tiene in completo spirito di volontariato si tratta ovviamente di un'attività collaterale dell'associazione tai chi caratelario che conta comunque una trentina di iscritti normodotati e appassionati di questa che ci spiega elvira è un'arte marziale interiore che fa parte del kung fu le caratteristiche del tai chi lo rendono particolarmente adatto a chi ha difficoltà motorie causate da particolari malattie movimenti lenti è una corretta tecnica di respirazione spiega elvira ridono quest'arte marziale abbordabile anche da chi ha pesanti limiti motori a differenza delle arti marziali esteriori basati su forza e velocità si tratta di movimenti che hanno effetti sul nostro corpo confermati dalla medicina tradizionale cinese non voglio assolutamente dire che tali effetti siano miracolosi ma i benefici del tai chi cominciano a essere presi in considerazione anche dalla medicina ufficiale a titolo di esempio elvira racconta di una sua allieva arrivata con una disabilità importante questa signora affetta da distronia non riusciva a muovere per nulla la mano destra e a fatica altre parti del corpo dopo tre anni di tai chi dei 23 muscoli trattati con la tossina botulinica ben 20 hanno ripreso a funzionare del tutto o quasi benefici sono benefici benefici sono stati benefici 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 vedete basta cambiare cambia anche la parola benefici sono stati osservati anche in persone affette da sla che sono riusciti persino a limitare l'uso delle stampelle quindi benefici 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 sono stati per i corsi dedicati ai disabili ai normi dotati non occorre altro che contattare tai cilario al numero ve lo segno poi ve lo segnerò anche sotto della spiegazione dove il titolo della spiegazione con quel numero di telefono e 3356749352 oppure potete inviare un abil alla info chiocciola tai cicovo tutto attaccato punto com bene così ho fatto anche un po di pubblicità che non fa male perché comunque loro fanno del bene quando la gente fa del bene bello anche dare un piccolo contributo da piccola mano per quello che può servire scusate il mio raffreddore e adesso andiamo a parlare di quello che è successo da cosa brutta 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 avvenuta purtroppo lo scorso 16 settembre la mamma di iuri rompe il silenzio non ci può essere perdono chi l'ha ucciso merita l'ergastolo in un incontro commovente con il ragazzo che ha provato a salvare il figlio la mamma di iuri unizio giovanna lucera rompe il silenzio la donna abbraccia il giovane che ha provato a strappare il cameriere comasco di 23 anni dalle mani di quello che poi diventerà il suo assassino e in lacrime il ragazzo che è riuscito a richiamare l'attenzione a far arrivare una pattuglia della polizia e poi i soccorsi sul luogo dell'aggressione giovanna lo abbraccia ti ringrazierò tutta la vita dice la donna in lacrime se è stato il suo ultimo miracolo l'ultimo gigante buono che ha visto non pensare neanche per un attimo di non aver fatto abbastanza sempre durante l'incontro come si è appreso ieri dalla trasmissione ben ieri ormai tempo fa comunque dalla trasmissione rai ore 14 la mamma ha spiegato che non potrà mai perdonare e che si augura che a cuba bile il ventotenne turisino che ha picchiato morte il figlio venga dato l'ergastolo lui lo ha voluto ammazzare io ho un dolore che è più forte di qualsiasi disgrazia gli auguro un ergastolo mi auguro che gli venga dato l'ergastolo questa città non riesce a essere sicura per un ragazzo di 23 anni che cammina in una d'arsena non ci può essere perdono io l'inizio è stato ucciso in mezzo alla strada in darsena punto nevralgico della movida di milano quindi dalla parte dei navigli per intenderci per chi non conoscesse milano io purtroppo ci ho vissuto per più di 40 anni e sui navigli ci andavamo spesso ma di ste cose io sinceramente non ne ho mai viste il 23enne morto dopo due giorni di agonia al policlinico sarebbe stato strangolato per sette lunghissimi minuti dalle mani di cuba bile il tunisino di 28 anni dalle 3 52 di notte alle 3 59 il 28enne avrebbe soffocato il cameriere di origini comasche con una stretta a modo di tenaglia mentre la vittima lentamente si spegneva fino a rimanere immobile anche il bronco di riace gli sono girate leggermente i testi gli stanti in cui si è consumato l'omicidio si fanno via via più chiari grazie al racconto di un testimone alle immagini riprese da una telecamera di sicurezza della zona di viale gorizia come riportato nell'ordinanza del gip di milano angela minerva solo all'arrivo della volante di polizia il tunisino avrebbe liberato urizio gli agenti a quel punto capiscono che il 23enne incosciente gli praticano il massaggio cardiaco fino a quando intervengono anche i soccorruttori di areo sono loro a trasportare la vittima in como a farmacologico al policlinico già in gravissime condizioni il funerale e poi poi probabilmente si è tenuto a como a como perché comunque bisogna aspettare la nulla osta della procura per l'autopsia non l'autopsia eccetera intanto proseguono le indagini perché sono ancora morti gli aspetti da chiarire su questa aggressione mortale allora io sono andato a curiosare sul processo che stanno facendo no e pare pare perché la notizia di ottobre quindi di un mesetto fa 6 ottobre 6 ottobre fan page fan diciamo sempre anche omicidio volontario per ora l'accusa di omicidio volontario che ha così ha deciso di milano angela minerva accogliendo la richiesta della procura secondo gli inquirenti il 28enne avrebbe stretto le mani al collo di iuri urizio per un tempo prolungato fino a soffocarlo tra l'altro questo ragazzo tunisino ha detto che lo ha fatto per difendere una ragazza ucraina che stava chiedendo l'elemosina e il cameriere l'avrebbe diciamo così assalita per portargli via i soldi eccetera cosa che a quanto pare dalle immagini non è assolutamente vero e quindi io sinceramente sapete io quando succedono queste cose vorrei sempre sapere perché senza voler stare a ripeto quando succedono queste cose qua di attenuanti ce ne sono poche perché a quanto pare boh non si riesce a capire perché gli avesse detto un'offesa mi ha offeso e non ci ho visto più può succedere può essere un'attene alte tra virgolette mi ha tirato un pugno mi ha guardato male perché c'è gente che magari sei lì che ti guardi in giro per i fatti tuoi incroci con lo sguardo un'altra persona ma stai guardandoti in giro perché prima volta che magari vai in un posto e questo fa che cazzo guardi scusa stavo guardandomi in giro non volevo no tu mi hai guardato male cazzo vuoi perché c'è persone che magari sclerano cazzo guardi ricorderò sempre una volta in discoteca il genio della lampada di uno della mia compagnia che deve fare il fenomeno invece di capire che magari stai muto che è meglio quello gli fa cazzo guardi no? e lui ha risposto guarda lo stronzo che balla non l'avesse mai detto al che tutti a fare da paceri meno male che siamo riusciti a evitare disastri eravamo in discoteca eravamo pischellini però inventare andare a inventarsi no? lo difeso poi comunque l'hai difeso cioè ormai l'hai immobilizzato lascialo andare adesso ti sei rovinato la vita hai rovinato la vita di un altro ragazzo ne è valsa la pena non penso io quando succedono ripeto rimango basito quando leggo di bambini di 9 10 anni che volano in cielo per brutte malattie e mi chiede c'è sempre quel perché che alleggia succedono queste tragedie c'è quel perché che alleggia poi sui femminicini purtroppo so benissimo che ci sono maschi che sono abituati a a non ricevere dei no perché se ricevono dei no vanno fuori di testa come ti permetti la frase è sempre quella è o con me o con nessuno io quando sento tutte queste cose qua ragazzi è inutile se uno decide di fare la puttanata la fa e nessuno glielo può impedire è sempre a posteriori e quando uno decide di fare la puttanata vuol dire che non ha più nulla da perdere o si sente morto che non lo so perché sinceramente ma d'altronde ve lo spiego sempre no quando vedo la gente come sono innamorato come sono innamorato poi dopo troia puttana eccetera perché magari gli ha dato il due di picche ragazzi l'amore non è un interruttore se tu vuoi bene una persona gli vuoi bene sia che te la da sia che non te la da non è che tu ami una persona se te la da e se non te la da non l'ambi più prendi atto che quella ragazza non potrà mai stare con te ma quello che provi resta poi ti rendi conto che non sarà lei e ti guardi in giro elabori il lutto per chi una settimana chi due settimane chi un mese chi due mesi chi un anno quello che è e poi ti guardi in giro di donne ce ne sono tante ne scegli un'altra a cui poter donare l'amore che hai ma quello che provi per una persona per quell'affetto quella simpatia quella passa a me non è mai passato io tutte le ragazze particolari a cui ho voluto me le ricordo ancora poi magari non le frequento più loro hanno un'altra vita alcune le frequento ancora alcune le incontro ancora non ho nessun problema ma alcune sono felicemente sposate o fidanzate e mi salutano sempre con simpatia io le saluto con simpatia senza nessun problema e non mi è mai capitato di dire quando una mi dava due di picche che puntini puntini eccetera prendevo atto mi facevo il mio pianto solitario senza rompere i coglioni a nessuno e poi tornavo col mio sorrisone stop vabbè ragazzoli lasciamo perdere anche se qua non c'entrava niente qua c'è uno che ha acceso una persona per futili motivi non si capisce il motivo francamente boh vabbè ovunque pare che l'omicidio volontario lì è prendi dai trent'anni all'ergastolo senza se senza mati sei rovinato la vita vabbè passiamo a giorg giorgi arriva la conferma dell'agente immobiliare giorgi clurie vende villa oleandra e lascia il lago di como questa volta è tutto vero dopo anni di pettegolezzi e rumors è arrivata la conferma al settimanale oggi da parte dell'agente immobiliare jasmin baizal titolare di hangel and walkers lago di como agenzia che tratta prevalentemente immobili di lusso le parole esclusive rilasciate al noto settimanale su villa oleandra non sembrano davvero lasciare spiragli le voci giravano anche negli anni passati ma questa volta è vero spiega baizal e aggiunge anche che è un'agenzia di milano a seguire la vendita siccome noi abbiamo una clientela di un certo tipo continua qualcuno ci ha già chiamato in particolare un cliente molto interessato abbiamo avviato tutti i controlli del caso prima di presentare un'eventuale offerta l'indiscrizione è risuonata insistentemente qualche settimana fa da alcune settimane state internazionali come la rivista britannica page six stando alla fonte citata dalla testata inglese la star americana e sua moglie amal non gradirebbero la grande attenzione mediatica su cui sono sottoposti sull'ario ormai meta davvero gettonatissima in tutto da tutti in tutto da tutto il mondo la celebre coppia sembra preferire almeno in europa la più tranquilla residenza acquistata in provenza villa oleandra sarebbe quindi in vendita per cento milioni di euro salvo smentite dei diretti interessati questa volta sembra proprio che george cluny dirà dio dopo oltre vent'anni al lago di como ma sarà vero o è solo un indiscrezione curiosa e poi diranno no stiamo stiamo così bene sul lago di como fa niente la questione mediatica fa niente se ci inseguono i papirazzi eccetera 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 vedremo vedremo questa è solo la prima puntata ve lo dico nei prossimi giorni ci sarà il proseguio quindi state attenti ai titoli delle mie news che tanto ormai non sapete mai se il news o il news ve lo dico durante il video comunque questa è una notizia di metà settembre il 18 settembre ragazzoli spero di non avermi intristito con le due notizie brutte 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 ma purtroppo non sempre si può parlare di scienza fantascienza cose simpatiche cose storiche o gaff diciamo così oppure cose che riguardano anche il mondo dello spettacolo del cinema nuovi film ci sono anche le notizie di cronaca e purtroppo ci sono anche cose poco simpatiche io intanto vi saluto vi ringrazio poi se volete saperne di più sul processo questo personaggio qua che ha tolto la vita un bravo ragazzo ve lo dite cercherò di stare dietro ma tanto ci vorrà ora che la giustizia italiana deciderà su questa cosa passano almeno cinque anni perché prima c'è il processo poi c'è l'appello poi c'è il contrappello poi c'è la cassazione calcolate un anno per ogni processo buonanotte io intanto vi saluto vi ringrazio e ci vediamo naturalmente subito dopo tra un'oretta perché i due video saranno distanziati uno dall'altro con le call news di cui non so di che cosa parlerò ci sono quelle di ottobre del 2022 da fare mentre invece vi informo così ve lo dico che oggi pomeriggio faremo un'altra gara di MotoGP perché ce la faccio e visto e considerato che il prossimo weekend si conclude tutto devo cercare tra questa settimana e la prossima di proseguire con il recupero delle gare così poi posso dedicarmi allo sci che naturalmente guarderete in tre ma fa niente io per correttezza la stagione devo finire quella dell'anno scorso e mettervi anche le gare di quest'anno quindi tra schedine della Champions eccetera eccetera cercherò sempre di inserire gare di Formula 1 gare di MotoGP e quando ho finito di fare tutta la settimana andremo avanti tutto dicembre con lo sci e quant'altro e poi dopo naturalmente con l'anno nuovo a gennaio proseguiremo alla grandissima nei 15 giorni in cui siamo fermi a fare sci come se non ci fosse un domani ragazzoli vi saluto vi ringrazio e ci vediamo alla prossima ciao